Il disagio abitativo è uno dei problemi presenti a Fano, ma in tutto il Paese, sulla quale noi abbiamo sempre dato risposte importanti con uno sforzo significativo, mettendo risorse significative che negli anni passati ci hanno dato anche delle premialità. Quest'anno purtroppo sono venute meno risorse che dal Governo, poi attraverso le regioni, arrivavano ai Comuni e quindi ci siamo fatti carico di mettere risorse maggiori nella consapevolezza, nella difficoltà del bilancio ordinario in cui si trovano i Comuni, anche il nostro, difficoltà oggettive dove le maglie per poter attingere sono veramente poche. Però proprio per tenere quel passo noi abbiamo sempre fatto in questi anni la scelta di dare priorità alle esigenze della persona. La persona è un pilastro della comunità. Portavo anche un esempio, proprio quando sono stato eletto sindaco nel 2014, un mese dopo ricevemmo un taglio dall'allora Governo di 2 milioni e mezzo. Quindi per una città come Fano è una tragedia. Bene, in quel caso facciamo tagli anche cose magari più effimere per garantire quelle risposte minime nelle politiche sociali. È il terzo anno consecutivo che il Comune di Fano fa questa scelta che ci ha distinto negli anni scorsi. Quindi è una scelta, potrei definire, distintiva perché aveva consentito con un meccanismo premiante di avere l'importo più elevato tra i Comuni della Regione Marche negli ultimi due anni. Noi abbiamo messo più risorse rispetto a quelle dello scorso anno per un totale alla fine di 247.500 euro e cioè 185.200 risorse comunali che vanno a sostenere il pagamento del canone di locazione, quindi l'affitto, per le famiglie, i nuclei familiari che hanno partecipato al bando e che per partecipare dovevano avere il requisito di non superare il livello di ISEE di 9.360 euro che è la soglia della misura di contrasto alla povertà che prima era il reddito di cittadinanza, oggi è l'assegno di inclusione. E poi, grazie a DASET, integrando invece per il sostegno, per il pagamento dell'utenza idrica per 62.300 euro. Quanto sarà il benefit per ciascuna famiglia? Ogni famiglia percepirà, per quello che è il sostegno al pagamento del canone di locazione, 400 euro, più i 100 euro come credito, come rimborso per il pagamento dell'utenza idrica. Coloro che invece, perché quest'anno abbiamo ampliato anche alle famiglie che non sono in condizioni di, in una situazione di locazione, quindi non sono in affitto, ma hanno una casa in proprietà e nonostante questo rientrano comunque in quella fascia di ISEE sotto i 9.360 euro, percepiscono invece 200 euro, solo chiaramente per il pagamento dell'utenza idrica.